bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video sono DMAX TV Nico Pecchio, meglio noto come Presidente e ragazzi bentornati sulla carriera allenatore PSG appunto su MSL ragazzi siamo alla nona giornata, dobbiamo fare la nona giornata contro Renant siamo primi in classifica a pari merito di punti con il Marsiglia dobbiamo sperare di vincere il campionato per poi andare in Champions League e sarebbe una cosa magnifica a quel punto vai ragazzi partita cominciata dai raga dai ok prima azione per noi con Bappe Danilo per Kurzawa Kurzawa per Di Maria troppo centrale uh raga 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 questa sicchia è una bella azione Di Maria centrale anche questa cazzo sto portiere è bravo eh bravo sto portiere ragazzi manca pochissimo a fine primo tempo e c'è l'azione del Renant Keylor Navas chiude il primo tempo così ragazzi e non è praticamente successo nulla in questo in questo primo tempo della partita veramente nulla via così al secondo tempo il Renant che batte ma sbaglia il rinvio allora Lucas Cavani Cavani per Mbappé Kilian ancora Kilian? peccato 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 quella era una bella azione Neymar li sbaglia ancora anche questo passaggio peccato oh dai ragazzione Cavani per Mbappé Mbappé avanza Mbappé perché l'ha data così dietro? Maledetto Mbappé entra in aria per Lucas fermato benissimo Lucas Neymar 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 miracolo Marquinhos calcio di punizione io calcio di punizione su questo gioco non li so battere quindi la volevo passare ma evidentemente non è servito a nulla ragazzi calcio d'angolo per il Renant e poi è finita la partita ultimo calcio c'è tanto meno male meno male via batti veloce oh mio dio fuori così bene 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 via batti via ultima azione niente novantesimo minuto zero minuti di recupero quindi bello zero a zero raga ragazzi brutta partita zero a zero ma il Marsiglia ha perso ma noi abbiamo pareggiato quindi andiamo di un punto avanti e il Lione supera il Marsiglia mamma mia che campionato ragazzi decima settimana si va contro il Nizza via ragazzi con Paris Saint Germain Nizza mamma mia questa deve essere una bella partita questa deve essere proprio una bella partita uh di Maria ma che cacchio di azione era ragazzi l'azione non è finita continua Gesì palo parata palo ma cos'è successo perché miracolo di nuovo calcio d'angolo cosa sta succedendo di testa traversa poi mi è spinta fuori mamma mia tutto in 17 minuti Cavani di Maria di Maria si fa ruba a palla ma non è finita perché c'è Gesè c'è Gesè traversissima traversissima oh regà dai questa è l'azione che ci porta al gol me lo sento con Lucas Lucas palo e poi ci arriva Neymar 1 a 0 finalmente ragazzi finalmente ragazzi e 1 a 0 direi meritatissimo cioè cacchio abbiamo fatto azioni solo noi loro ecco prima azione che stanno per fare miracolo tira via tira via tira via fine primo tempo ragazzi è appena era è appena finito il primo tempo appena cominciato il secondo cioè vogliamo parlare di che primo tempo è stato traverse pali paratissima un'altra traversa ancora poi c'è Mbappé ma viene fermato cioè anche sto secondo tempo ragazzi promette bene ma l'importante è che siamo in vantaggio noi di 1 a 0 e che stanno succedendo un sacco di azioni questo è l'importante infatti ora volevo tagliare questa parte ma sta succedendo un'altra azione ancora Lucas ok finita finita no Gesè vai di nuovo Di Maria Di Maria tiro la devia ancora buona Gesè 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 di nuovo di nuovo la palla gli torna a loro ragazzi inizio estremamente fortunata fallo mamma mia Mbappé 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 vede Neymar con che facilità Neymar miracolo Mbappé non sa che fare vabbè fine della partita 1-0 per il PSG ragazzi portata a casa per 1-0 mentre il Marsiglia ha perso e il Lione ha vinto quindi il Marsiglia ciao ciao ora ci sta dietro il Lione e anche il Metz comunque ci sta lì anche il Metz ora ci toccherà il Lille che comunque in classifica è messa male male bene raga comincia la partita contro Lille vai subito subito Mbappé 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 mamma mia cosa era successo non lo so ma va bene Gesè perché tutte a me oh cari ragazzi con Lucas tutto è possibile o almeno tutto era possibile ora non è più possibile nei mari perché l'hai data a Di Maria quando c'era Mbappé libero Dio Cristo vai così Gesè vai così Gesè Gesè perché sto portiere mi vuole male ogni palla che tocchiamo è un'azione Lucas ragazzi ogni palla che tocchiamo è un'azione ormai ormai funziona così ormai funziona così Kurzawa Cavani Cavani per Di Maria Gesè e poi c'è il gol e poi c'è il gol Neymar dai così raga fine primo tempo 1-0 per ora a scadere del primo tempo fatto dal PSG bene così ragazzi dai col secondo cominciamo sto secondo tempo con Gesè all'attacco che fa subito un'azione personale miracolo 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 cosa ha preso il portiere Marchinius miracolo di nuovo miracolo di nuovo calcio d'angolo di nuovo entra non so com'è entrata chi ha fatto col Cavani Edinson Cavani e si va per il 2-0 si così Kurzawa 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 3-0 dominato dominata dominata sta partita dominata Neymar Neymar chi la do che cacchia è successo lì apprezzo comunque Marchinius Di Maria Palo ma perché prendo così tanti pali 82esimo minuto e azione per il Lil eccoci azione Benzio gran gol mamma mia che golasso dove me l'ha messa dove me l'ha messa ultima azione della partita la fa Gesè non la fa Gesè fine della partita 3-1 a parte il gol sul finale bellissimo del Lil gran partita abbiamo fatto cioè l'abbiamo dominata Marsiglia che torna alla vittoria a Lione vince e il Mets che vince anche lui ci stanno dietro e di pochissimo campionato che è combattutissimo e siamo su 19 giornate siamo alla dodicesima giornata con il Nantes ci toccherà che comunque è messo quinto in classifica ragazzi per questo episodio della carriera MSL è tutto ragazzi vi invito a mettere like iscrivervi al canale supportare questa serie come state facendo perché apprezzo tantissimo il supporto che mi state lasciando ragazzi un abbraccio un saluto dal presidentone ci vediamo con il prossimo episodio di MSL presto ciao raga